Espositori, ambulanti dalla frutta alla verdura ai prodotti delle aziende agricole stringono i denti e cercano di esserci sulla piazza non solo per loro stessi ma anche per dare un segnale alla clientela affezionata, al di là dei magri incassi anche di resilienza, più forti del virus per sentirsi vivi. Ressa sicuramente non c'è, le persone stanno sempre più attente alla distanza, a stare controllate e niente, andiamo avanti e siamo positivi, le presenze sono diminuite tantissimo, però si sta anche per fare il mercato, per dare la presenza, la continuità e anche perché è un messaggio positivo all'esserci. Va un po' male qua, la gente ha paura, ce n'è poca in giro, comunque chi è stato è contento dei nostri prodotti e gli dispiace se ci fanno chiudere, però essendo così all'aperto io penso che i rischi sono molto minori il rapporto a chiudersi dentro il supermercato. La gente sta più tranquilla qui perché dice qui siamo all'aperto, le distanze di sicurezza le teniamo. Il comune ci sta appoggiando con grande spalla e noi siamo qui con tutte queste accortezze che stiamo doprando per avere un punto di incontro tra di noi, perché è questo che ci crediamo sull'alimentazione a chilometro zero e per questo che ci battiamo. E qui che vogliamo i nostri clienti come avete visto questi pochi in questi giorni di paura che c'è, però noi siamo qui a rassicurarvi che i nostri prodotti sono sani e vi aspettiamo al mercato. Il clima è abbastanza teso come è naturale che sia in queste situazioni, noi come asporto potevamo continuare ma non ce la siamo sentita e insieme ad altre attività del nostro tipo, insieme ai bar, insieme ai negozi abbiamo deciso di adottare una linea comune e quindi abbiamo deciso di limitare le uscite delle persone e quindi di non dargli possibilità di venire giù inutilmente, diciamo. Mi sembra giusto che solo farmacie e alimentari eccetera siano aperti, quindi a male in cuore abbiamo deciso oggi l'ultimo giorno, da domani diciamo i negozi in centro saranno quasi tutti chiusi. Si fa fatica dai, cerchiamo di far tenere rispetto per tutti in modo che cerchiamo di fare il nostro meglio, giustamente i mercati sono scesi un po' tutti, il flusso non c'è, alla speranza che dopo questa cosa riprenderemo tutti. Io sono fiducioso, state parlando proprio con la persona più fiduciosa del mondo perché ho sempre avuto fiducia, ce la faremo e forza per tutti, un auguri per tutti.